È stata una giornata molto importante per un cuoco appunto. Avere l'occasione di poter divulgare le proprie sperimentazioni, le proprie ricerche in merito, è sempre un onore. La platea è sempre molto attenta. Noi continuiamo poi a fare appunto ricerca e sperimentazione per migliorare quelli che sono i principi fondamentali mirati proprio alla trasformazione dei prodotti, delle materie prime per far sì di creare dei prodotti in chiave nutraceutica e siamo appunto qui in questo convegno e vedo che c'è sempre un riscontro molto importante. Loro che sono abituati a vedere tabelle, numeri, coefficienti nutrizionali non ci pensano che magari un alimento se cotto male non soltanto può perdere le sue proprietà nutritive ma essere anche dannoso. Sì, ecco, quello che dici è corretto. Adesso da un po' di anni siamo molto avvicinati, le due culture si sono molto avvicinate ed è molto importante questo perché un medico, un nutrizionista chiaramente ha sempre formulato delle diete in base alle proprie conoscenze. Noi con la cucina lineare metabolica cosa abbiamo fatto? Dagli alimenti siamo andati alla dieta. Prima il concetto era inverso, dalla dieta agli alimenti. Noi invece attraverso lo studio e la corretta trasformazione arriviamo appunto dalla materia prima trasformandola con le corrette modalità a formulare, a costruire una dieta. I prossimi mesi si sta sviluppando una ricerca molto importante sulla fortificazione dei vegetali. Oggi abbiamo visto la fortificazione con gli oli e con l'accessione di erbe aromatiche e spezie che entrano nella composizione dei dessert, di alcuni dolci, di alcuni prodotti di panificazione ma anche delle paste alimentari è stata molto importante. Però quello a cui noi stiamo puntando ultimamente è proprio la fortificazione dei prodotti vegetali e abbiamo già dei dati molto importanti. Il prossimo appuntamento sarà al SIO a ottobre dove ci sarà poi al SIO nazionale dove avrò la fortuna di relazionare poi in Aula Magna e di poi far visionare, far toccare con mano quest'ultima sperimentazione.